Ispezione a forzieri, a timpani terribili, all'albero della realtà o alla baita Knobby Allora vi consiglio di completare l'incarico in rissa squadra e atterrete direttamente in cima all'albero della realtà Trovate subito direttamente 3 o 4 forzieri, altrimenti scendete giù quando trovate un altro Vi dirigete verso le cascate, dietro la cascata trovate un'altra cassa Se anche quella è già aperta potete entrare qua, trovate altri forzieri Se anche questi sono aperti andate dritto, qua trovate un prossimo forziere Entrate qua nella galleria a destra, trovate altri due forzieri e avete completato l'incarico